Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Gwendalina Tavassi è attualmente una delle protagoniste dell'Isola dei Famosi, in coppia con suo fratello Edoardo Ma sapete che non molto tempo fa aveva affermato di avere origini nobili? Gwendalina Tavassi e suo fratello Edoardo si stanno facendo conoscere, anche se la prima era già abbastanza conosciuta, soprattutto per la loro spontaneità, i loro caratteri molto forti, decisi, che li portano a scontrarsi, ma che comunque non impediscono loro di fare sempre pace Gwendalina Tavassi e la confessione sulle sue origini nobili Tutto il pubblico li sta apprezzando anche per il loro modo ironico di affrontare il reality, sono divenute celebri ormai le imitazioni di Edoardo, e per la loro vera città Eppure non molto tempo fa, la attuale naufraga aveva affermato in una nota trasmissione televisiva di avere delle origini nobili, notizia che già all'epoca aveva lasciato tutti senza parole Ecco cosa ha raccontato.Gwendalina Tavassi, la confessione inaspettata La carriera di Gwendalina Tavassi in tv ha avuto inizio ormai 12 anni fa Era il 2010 quando partecipò alla versione NIP del Grande Fratello, per poi dedicarsi alla carriera di opinionista Gwendalina poi negli anni ha preso spessissimo parte ai programmi di Barbara D'Urso, in particolare Pomeriggio 5 e Domenica Live, per poi approdare sull'Isola dei Famosi nel 2012 Nel 2018, ha partecipato a tale quale show, lo storico programma condotto da Carlo Conti su Rai 1 per poi ritornare ai programmi Mediaset A distanza di 10 anni, poi, ha scelto di ritornare anche sull'Isola dei Famosi come concorrente, ma questa volta con suo fratello Edoardo Ma sapete che, proprio in uno dei programmi di Barbara D'Urso di cui è spesso ospite, ha confessato un dettaglio del tutto inaspettato sulla sua vita? Ho origini nobili, la mia bisnonna era In una puntata di Pomeriggio 5, in cui era ospite anche Baru, che sappiamo avere delle origini nobili, Gwendalina Tavassi ha spiazzato tutti i presenti ed il pubblico a casa dicendo, anche io ho discendenze nobili Ovviamente Barbara D'Urso non ha potuto non chiedere ulteriori spiegazioni Così l'attuale naufraga le ha confessato che la sua bisnonna era una contessa, Angelini Montefiore, e che ha anche dei documenti che attestano la sua provenienza e su questo punto ha scherzato assicurando ai presenti di non averli rubati La Tavassi ha poi aggiunto di essere vissuta in una famiglia che era molto attenta alle regole, che era solita seguire il Galateo, e che quindi ad un certo punto della sua vita, stanca della rigidità, ha cercato di ribellarsi a modo suo Infine ha affermato che lei quindi sa benissimo nella teoria come si dovrebbe mangiare, stare seduti a tavola e così via Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video